Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day. Buongiorno, dobro jutro, da sei mal, da sei mal, sei palese oppure platate, che afflits l'umanità? Mal di panze e piccate, mal di stomi e la colite, l'isdenoidis, l'istuncilis, mal di schiena e mal di orelis, mal di dinche e mal di voi e anche l'aghe tra i genui, mal di cure e la nefrite, mal madron peritunite, e la stitiche, l'artrite, la scoliosi e stuarslavite, alle un rognon che si sbasse e il fiat che ti tartasse, e gli elasmi e la diabete e le scarpe ma se strette, e la gagne, i gneav si tirano e si ingroppano, si ritirano, mal di chiave, la cervicale, anche questo è un brut mal, che schimai e dopo tanchi, tanto sui piccoli che sui granchi, ma il pies mal che al dà più gran dolore, alle il mal d'amore. Buone giornate e buone vite!